57 barche che arrivano da tutto il mondo, sono divise in quattro categorie, abbiamo i Big Boat, le barche d'epoca, le classiche e gli Spirit of Tradition. Barche che arrivano da tutto il mondo con una loro storia, andiamo da Emilia che è stata commissionata dal senatore Agnelli e questo mi fa piacere anche dirlo in virtù del fatto che Alfa Romeo è uno degli sponsor. Abbiamo barche su cui hanno fatto la luna di miele il principe Ragnere Greschelli che è una dei Mumbin, abbiamo una barca che è gemella del Tuiga che è la barca che rappresenta lo Yacht Club di Monaco che è Marisca, abbiamo una serie di marcazioni, abbiamo anche una barca che è stata restaurata da un cantiere d'Imperia che è EA del 1952 che tra l'altro mi fa piacere dirlo perché è uno dei nostri soci che è il cantiere di Mario 40. Poi abbiamo un sacco di barca, abbiamo Serenade che è una barca che è stata commissionata per un violinista che è stato molto famoso nel secolo scorso, su cui poi tra l'altro Enfri Bogart ha imparato ad andare in barca e poi abbiamo anche due madrine, due madrine che sono qua con me di cui voglio parlare con orgoglio perché sono state recentemente a Newport che è la città gemellata con Imperia dove hanno disputato il campionato mondiale di 4.20 e saranno le madrine della manifestazione quindi con orgoglio noi Club d'Imperia annoveriamo anche veliste di caratura internazionale oltre loro c'è stato un altro equipaggio sempre di 4.20 che è andato agli europei di 4.20 in Portogallo che sono Casano e Bozzano.